Ciao, mi chiamo Ciro, ho 33 anni, lavoro ai lati da circa 3 anni, da meno di un anno invece sono diventato capodurno dell'area preparazione e muscolazione. Ho iniziato il mio percorso come operatore generico e adesso mi ritrovo a ricoprire questo ruolo. Quello che mi piace molto di questo lavoro è che è un lavoro molto dinamico e stimolante, non sei sempre lì a fare le stesse cose, mentre una cosa che mi piace un po' di meno è che non riesco a sviluppare al massimo le mie capacità creative. Metto passione nelle cose che mi entusiasmano e soprattutto mi diverte il concetto di novità. Ultimamente mi diverto con la mia stampante 3D a progettare e a stampare progetti dando sfogo alla mia fantasia. Ultimamente. 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 Ultimamente.